laser Emma chi ne sta? Die sta Via via, se vuoi 2 no no è stato già ma chi ti è ancora già che è già? no no che ammazzo? oi Jack mi piacerebbe non po ok no 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 Ah, ho fatto la cassata Ma perché sennò mi prendeva quella che è in mani Ah no, è poco tutto invece Carlo Che c'è? Sì, no Ma che cosa dobbiamo fare? Ma hai sentito quell'arc? Non c'è nessuno Carlo Per che lo spune è buono Non c'è nessuno 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 oh 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 ehehehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehs eh vabbè vabbè esci lì Ragno di merda 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 Ragno di merda